Allora, riso e due uova e un po' di verdure con il salmone. Questo è il pranzo di Paolo dopo un giorno di digiuno e un giorno di boh, che ha mangiato e non ha mangiato poche niente. Io non ho molta fame, oggi pomeriggio, comunque vado avanti con la mia verza, con la zucca e il salmone e due o tre gallette di quinoa. Allora, a livello nutrizionale, Paolo ha i carbo, le proteine buone con i grassi, qua c'è un po' di fibre, un po' di carbo e anche un po' di pesciolino. Io ho pesciolino e circonetto, forse meno, con le verdure e un po' di carbo, non troppi. E buon appetito! Tisana di salvia prima di andare a letto, quindi una tazza piccola, diciamo tre quarti e tre foglie di salvia. Se la volete concentrata vanno bene anche quattro o cinque, ma mi piace leggera. Ottima, ottima per tutti, in particolare per le donne. Buongiorno a tutti, allora, colazione brunch canonico, relativamente canonico, ma sì dai. Allora, booster di pollo biologici con fave fatte in vasocottura, con un po' di carota dentro e salvia rosmarino e radicchio. Paolo ha ovviamente più dose di fave, più dose di tutto, in più ha del pane di saraceno. E buon appetito a tutti! Ah sì, dal punto di vista nutrizionale, Paolo ha il carbo del pane di saraceno, il carbo delle fave, le fave però hanno anche proteine, le proteine del pollo e le fibre dell'insalata. Le fibre dell'insalata e il carbo delle fave per me e le proteine e i grassi del booster. E buon appetito! Ecco cosa stiamo guardando durante il brunch, indovino, indovinello. Poi volevo dire, come ulteriore particolare, che l'insalata l'ho condita con l'olio di fegato di merluzzo. Sa vagamente di limone, ragazzi, non è male, provate. È un ottimo modo per fare integrazione naturale senza doverlo mangiare così da solo. Dimentico sempre e spesso di inquadrare le verdure fermentate. Allora, stamattina stiamo mangiando la verza fermentata, i crauti di verza sarebbero. Sempre il solito sistema, però questa volta è una salamoia a secco. Se avete la possibilità, dal punto di vista lavorativo, oppure se fate un lavoro che a volte vi serve magari scrivere, utilizzare il computer, il cellulare, ma potete lavorare lo stesso in qualsiasi posto, mettetevi il più possibile al sole, chiaramente con le protezioni per quello che riguarda viso, collo e decoltè, però, adesso parlo... ogni tanto cado dentro nel mio lavoro, però, lasciando fuori più parti del corpo possibile per catturare la vitamina D, ok? Mi raccomando, perché questo fa stare molto bene. Allora, e dunque ho fatto colazione stamattina, erano più o meno le sette e mezza, adesso sono le dodici e mezza, ho il pranzo tardivo verso le tre, e mi è stato detto di segnalare anche i miei spuntini, giusto così, e quindi ho pesato, adesso vi faccio vedere quelli che io li ho già mangiati, però quelli che sono rimasti, i miei semi di zucca che avevo messo, sapete che quando pulisco le zucche, metto la polpettina dentro, i semi in friggettrice ad aria, 180 gradi, finché diventano belli croccanti, con un pizzico di sale, e poi li mangio così, ma con tutto, ecco, la buccia, con tutto, sono veramente, ragazzi, squisiti, una roba esagerata, ne ho mangiati circa 15 grammi, e ho pulito un cacco che era andato a quel paese, e ne era rimasto circa un quarto, e gli hanno dato metà alla dea insieme a un uovo, a un uovetto, e come l'ha anche mangiato di gusto, e un cucchiaino l'ho assaggiato io, quindi diciamo, un cucchiaino di cacco, e circa 15 grammi di semi di zucca, attenzione che i semi di zucca comprati puliti, non sono i semi di zucca così, perché questi comprendono la fibra esterna che non è digeribile, quindi, se dovete mangiare i semi di zucca normali, ne avrò mangiati 5-6 grammi, ok? Perché la buccia non è, come si dice, non dà calorie, non dà niente, ecco, è solamente una cosa crocchiosa in bocca, molto buona, ma fibra praticamente, fibra indigeribile, ecco, ci tengo a precisarlo, perché invece se mangiate 15-20 grammi di semi di zucca, insomma, hanno un nutriente decisamente diverso. e per me è una cosa male. prendersi cura di sé esatto che bello, che bravi, che belli che siete questo è un esperimento ho frullato zucca e albume solo e ne è risultato una specie di cremina un po' tanto albume, cioè non pochissimo mettete che su una zucchetta piccola ne avrò messi anche un paio di bicchieri poi l'ho messa in una tortiera piccola da 20 cm 18 cm con la carta forno e l'ho messa nella friggitrice ad aria a 180 gradi no scusate ho abbassato 160 gradi, ho fatto 20 minuti ma poi guardate che si abbia fatto una bella crosticina sopra e poi vi so dire sono quelle serie di non posso mangiare i dolci e quindi faccio dei finti dolci per accontentare l'occhio diventa una sorta di schiacciata dolce di frittata dolce di schiacciata dolce di zucca di schiacciata dolce di schiacciata dolce di zucca